I re 3.900 contro 3.800 Dai, su. Oh. Mmm. No. Perché? Ah, bullo. Ah, ho perso il tratto malato. Attenti, tu intanto vai qua e prendilo a calci. Tu vai a fare là. Ah, sì. Il finico. 9 mesi per colpa di questi mali. Scusa, eh. Prova a occupare là. Almeno. 6 mesi. Scusa, non... No! More vigilant. Ok, dai, dai. Su, su. Questo succede quando hai dei maledetti ribelli. Ah, sì. Senti. Scholarship. E sono diventato il capo della cultura danese. Ok. Ok. Dai, su. Oh. Ok. Dai, su. E prendilo. Dai. Oh. Ok. Dai, su. E prendilo. Ma... 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 Ma loro... Alzi. Do... E stanno... Che... Scusate. Ah. Quanto non ti... Beh. Faccio... ... Ah, ecco. Cioè, sono diventato orribile nel giro di una... Ok. La tua gloria è conosciuta. Ok, allora, Calforant, 150, ok. Tribù di Vogt. Osspita una festa. La festa ha inizio. Ok. Amicizia, amicizia, amicizia. La fila e calchiamo 50 soldi. Ok. 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 Qui in 10 metri. Wow. Starvation. Per il livello del forte. 4.000 rotti sono in totale. Dai, su. Bang. Dai, su. Aia. Mino 42. Oh. Quanto ha? Va bene. Va bene. My God. No. L'affeggio di Arus è perso. No. Rimango qua. Tre mesi, dai, su. Tieni, tieni. Perfetto. Perfetto, perfetto. Dai, 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 dai. Dai, dai. Oh. Lampadadices. dai CS ok dai vai apple verizziamolo dai su oh adesso unitevi e prendiamo gli accalci oh il saccheggio di lama ok 500 va bene ah è uscito peccato allora militari mercenari ah è finita allora erede non sposato alien's power petty kingdom no truppe nessuna truppe va bene ok disbandarmi scusa eh ah perché sono in guerra ok ah bene grande lavoro odd walk 4 al mese senti interessante senti allora questo è mio diamo eh allora ok suffolk ok diamo il castello del suffolk a lui mi sta simpatico ok duke stewardship bene old great blood in nella morte si rinasce ok raiz al landstone ma sì dai prendiamo film bene un film allora perso vai a pedagogia scientifico fedele bene ah ne ho un altro magnifico icona religiosa bene cento eh no mi piace questo beh niente ok 10 messaggi non letti petty king allora petty king stay quanto va di prowless ok io quanto ho di prowless no ira coach piscina pro terriple terriple a prigionieri allora forse così posso 10 25 a i chi ho 100 il mio prigioniere vassallo per 7 anni opinioni popolari più 50 sì la contessa vatte la pesca perché è un perché ma no mi ama terrarelli per 10 ok allora tutore di colte ok perché sono temperato allora ho recuperato gran parte di qua 100 dai che recupero qua allora militare saccheggiatori e cosa quanto siamo quasi un'ora 4 mila ne ho poi chi è lui il mio amico come fa ad avere come fa ad avere questo a senti ora andiamo a saccheggiare e poi ci riprendiamo il titolo perché mi mancano queste due forse ho fatto un piccolo errore quando le ho date fate e un po' un po' un po' un po' un po' Grazie. Uh, cultura anglosassone. No. Ok. Ah, eccoli. Maledetti ribellacci del cavolo. Ehi, quanti cavolo siete? Mille cose, no? Quello che ne ha... Oh, sì, tu. Vieni a darmi una mano. No. Senti. Ok. Andiamo qua, così. Lasciamo i soldi. E poi, vi dichiariamo un buon al mio amico. No. 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 li sto battendo non hanno men a tar locali pacificati e ho guadagnato un livello di devozione offer concubine ok posizione nel concilio aperta ok prendiamo qua scusa lo spy master eh no tu no mio cugino 30 va ok e io devo riprendere è chiara guerra mi spiace ma non sei tu sono io che ho fatto la scemenza di la verabile perks icona sveligiosa la sve la sve è l'unico la sve Ok, è morto lo steward, vorrebbe un fetto accettanza culturale. Ok, ma, ah ecco, vai. Vai su, ho 33%, ora vai qua, 15 mesi, trappi e slanning low, e diventiamo finalmente fazione Fascinating Banus. Ottimo lavoro, dai, su, 9 mesi, cicli, ah, dai, su, cadi, rampant, dai, se ne date. Posiamo, sviluppo 4, ho fortifica domanda, e finalmente posso reclamare il trono. Di Danimarca. Sta in guerra. Beh, volevo fare... Allora, questa qua l'ha finita, e quindi... Ok, allora si vede che al prossimo... E, B, E, B... Allora... O... Scusa, ah, perché... Sto... Sto partecipando... Ad una guerra io, non lui, capito? No... No... Non ci credo... Ho perso... No... Cioè, avevo il doppio di... Di truppe... Di truppe... Scusa... In tutto quanto abbiamo? Tenila... Ok... 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 Oh... Dai, dai, dai... Dai... Che prendi calci... In 4 mesi... Dai, su... Mio figlio... No... Mio figlio... Mio figlio... No... Profeta, dai, su... Profeta, dai... Scusa... Ma come cavolo fanno ad andare... In 4 mesi... Dovevo... Dovevo... Forse... È troppo alto... Dai, su... oh TV di Sayer è per colpa di sta guerra non posso usurpare il titolo di qualcuno che sta in guerra e lui la sta perdendo vai su la mia gloria è saggiamente conosciuta diciotto mesi mia moglie allora mi invia senti facciamo un un bel bambino dai su l'ho messa in cinta meno male sei mesi cavolo giustificazione clericale sto al 43% 24% 24% dai su 80% si va a togliere qua prendete prendete gli azioni ho perso 75% così oh mi dovevi dare fare un maschio questo non avresti dovuto farlo inf inf un bel bambino non avresti dovuto farlo non avresti dovuto farlo Scusa, ma il mio... Scusa un attimo, ma se io andassi a... Senti, non voglio continuare questa guerra. Ma cosa sta ancora in guerra? Si sta vincendo. Allora, tu devi andare a far... Da quel paese, tu. E' una virtù. A. Allora, vieni a... Tu. Allora. Ah, mo' potrei... Fondare un... Un regno. In cinque mesi. Dai, su. Lui, intanto, che sta facendo? Sta cercando di occupare quella. E' in tre... E' in meno di tre mesi? Oh. Oh. Dai, su. Ok. Ah. L'ho insultato. Ti pareva. Oh. Così paghi. Oh. Un bel... Un bellissimo pampino. Ah. Oh. Finalmente. Il mio reame. Il mio reame. Sono diventato il re di Velescia. Il regno di Velescia. Learning Pierce. Ok. Ok. You are pending new ghouls. Ok. Posso... Allora. Artefatti di corte. Tutti... Ah. Smure house banner. E anche più questo. Ok. Close grandeur. Large wall ornament. Large wall ornament. Ok. Ok. Boh. Questo. Magnifico. Claim. Quanto ha di Prolef? Ok. Quanto ho io di Prolef? Quanto ho io di Prolef? Ok. Ok. Book. Artifact. Ma si. Ok. Ehm. Vabbè. Andra bene. Ok. Ok. Niente da tenere. Oh. No. 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 Continuiamo. Batte l'axe. Ok. Le axe. Allora. Tutti gli artifatti di... Ah. Buono. Sto guadagnando un bel po' di cose. Cose. Hold. Agreat bolt. Ok. Questa volta lo facciamo al massimo. E poi... Ospitiamo anche una bella festa. Benvenuti amici a... Mmm. Scusa. Quanto bene mi vuole mio amico? Ma si. Parliamo un pochino con la regina. Ah. Ok. Senti. Ehm. Fini alla prossima volta. Novanta. E... Ci siamo riusciti. E ho due perk. Uno. Priest Opinion. E Radiante. Livello di devozione. E posso... Disbandare l'esercito. Allora. Concilio. Ehm. Il presi dov'è? E... Così. Ci salutiamo. Oltre a... Great Blot. La... Preparazione per il blot. Ok. La mia... Ascensione al trono... The Earth Reading. Mmm. Nel Meck and Burgo. Sono conosciuto per la dedicazione alla fede. Ok. Una bella... Learning Challenge. E vai. e ho anche un altro perk e ci, con questo ci salutiamo e vi saluto ciao ah magnifico eh e così dicendo io vi saluto ciao ciao e alla fine io gli dichiarerò guerra e mi prenderò il mio regno che ora